Ciao ragazzi sono Saf come va? Sono qua che mi sto preparando, sto facendo un po' più bello perché uscirò a cena con mia moglie, l'andrò a prendere al lavoro fra un po' perché oggi sono quattro anni che stiamo insieme, ci siamo sposati a giugno di un anno fa quindi insomma è da un anno e qualche mese che siamo sposati, però stiamo insieme da quattro anni oggi, insomma bisognerà pur farsi carini per la propria bellissima moglie no? È stata una giornata un bel po' impegnativa e anche domani sarà lo stesso, lo sto traducendo per un cliente un videogioco, anzi ho tradotto per un cliente un videogioco e per un altro cliente sto traducendo un sito internet e un'applicazione sempre per questo sito internet, come avrete visto sto anche creando un'applicazione, l'avrete visto ieri da uno dei video che ho caricato e praticamente molto presto caricherò anche le presentazioni in altre lingue e quindi sì c'è molto stress, molte cose per la testa in questo momento. Sono veramente molto stanco, agli occhi e la testa stanchi, poi soffro anche un pochino di mal di collo purtroppo di natura anche per via di qualche incidente, ma quello che oggi veramente importa nella mia giornata è quanto sia innamorato di mia moglie, di quanto sia una persona fantastica, che crede in me, nelle mie potenzialità, che me lo ricorda giorno per giorno il fatto di credere in me, mi dimostra amore incondizionato, ragazzi trovate un amore che veramente meriti il vostro amore, perché mia moglie è una persona fantastica, è un po' timida, se non ve la farei vedere in qualche video. Della verità vorrei anche che voi cominciaste un pochino a guardare alcuni miei video del mio passato, qua in Polonia sempre. C'è un video nel quale ho fatto un giro a Varsavia, nel quale per qualche secondo si vede la mia splendida mogliettina, quindi adesso lei si arrabbierà che ve l'ho ricordato, ma adesso sto scherzando, ma comunque andate a dare un'occhiata anche agli altri miei video, soprattutto quelli, i vlog che ho fatto qua in Polonia, cliccate qua in alto alla vostra sinistra e andrete alla playlist quella della Polonia, così guardate un po' anche altri miei video che ho fatto appunto qua in Polonia e che potrebbero piacere. Ora finisco di farmi la barba, poi mi vestirò e andrò a prendere mia mogliettina dal lavoro per andare a mangiare, andremo a mangiare al ristorante indiano stasera, magari faccio qualche foto e video a piatti ve li faccio vedere domani. Buona serata ragazzi, è stato un piacere salutare me anche solo per qualche minuto. A domani ragazzi!